Il nuovo giocatore dell'Aurora Basket, siamo molto contenti di aver portato a Iessi un atleto, un ragazzo che era la nostra prima scelta nel reparto degli esterni. Stefano ci ha fatto sempre male quando giocava a Ferrara, a Forlì e siamo veramente contenti di avere un atleta che possa aiutare la nostra squadra a raggiungere gli obiettivi che ci siamo poi fissati. Per quanto riguarda Stefano, parlerà lui per tutto quello che riguarda la sua avventura Iessi, però voglio lasciare la parola a Federico che spiega il perché la scelta è ricaduta su Stefano. La scelta è ricaduta su Stefano perché con Piero, Damiano, con tutto lo staff quando si pensava a un progetto di squadra che ancora era tutto lo stato embrionale perché abbiamo praticamente quasi da subito pensato a un giocatore con le sue caratteristiche, quindi ci è venuto subito in mente lui. Logicamente non era l'unico che faceva parte di questa idea di squadra, però Stefano era quello su cui siamo andati subito sparati i diritti e l'abbiamo portato a casa. Sapevo che ci potevano essere rischi perché lui a Forlì ha fatto molto bene, era diventato un punto a riferimento alla tifoseria, era il capitano della squadra, quindi sapevamo con Piero che avremmo avuto la concorrenza di Forlì, però nonostante questo ci abbiamo provato e ci siamo riusciti. Siamo contenti, il giocatore con le sue doti le conoscete un po' tutti, è una grande d'utilità unita a un atletismo insomma non comune ai giocatori, è una guardia che può giocare play e può giocare in a due anche dalla piccola. Quindi avendo costruito una squadra praticamente con giocatori che possono giocare in più ruoli, diciamo che l'identikit dell'Aurora Basket l'anno prossimo sarà questa. Insomma rispecchia un po' quello che è l'idea di Piero Cohen. Presentazione per Stefano Borsato, volto nuovo dell'Aurora Basket, Iesi l'ha incrociata più volte da avversario, che ruolo proverà a ritagliarsi nella prossima Aurora? Sfida emozionante, giocare con un giocatore che ho già giocato come Goldberg, penso di poter coprire uno o due ruoli, fare anche il playmaker ogni tanto, proveremo a divertirci e voglio fare promesse, aspetto di vedere cosa dice il campo. La prima impressione che ha avuto Iesi è stato il grande caldo di questi giorni, caldo che come anche al Palace in occasione delle sfide fra Iesi e Forlì, che ricordo hai di quelle partite? Sì, è una grande rivalità, quest'anno secondo me farà ancora più caldo il palazzetto, ci si divertirà parecchio. C'è questa rivalità, come ce ne sono anche altre squadre probabilmente in passato, non ci focalizziamo su una squadra solo, ma penso che ogni domenica secondo me potrebbe esserci delle buone partite del divertimento per divertirsi. Sarà il primo anno di una Lega 2 ridisegnata, nello status, nella formula, per voi giocatori in campo magari cambierà poco, c'è da andare lì e provare a vincere. Sì esatto, speriamo che il basket giocato non risenta tutti questi cambiamenti che stanno facendo e per il resto vediamo cosa riusciamo a fare. Gli avversari da tenere maggiormente d'occhio sulla carta, hai dato un occhio a quelli che sono stati i movimenti di mercato? Sì, abbiamo Napoli, Barcellona e Torino che sono andate come favorite, però sappiamo benissimo che la carta è un conto, poi in campo è tutta un'altra cosa, quindi vedremo. Avrà insieme a te uno dei tuoi recenti compagni di squadra, Goldware, trovi una coppia come Rocca e Maggioli, che impressione ne hai? Come dicevo prima è stato uno dei motivi per cui ho deciso di venire qui, sicuramente ci divertiremo con Goldware, mi ricordo che è un super, un ragazzo super, ci si diverte proprio a giocare, ad allenarci durante la settimana, gli altri due pensano abbiano bisogno di presentazioni, giocatori come Maggioli e Rocca, quindi dobbiamo solo iniziare, e non vediamo l'ora. Ultimissima battuta, cosa ti ha chiesto coach Piero Cohen? Ancora non abbiamo parlato, adesso faremo due parole, vedremo com'è la sua idea tecnica e quello che riguarda tutto il resto dal punto di vista umano.